Ed è stata perfezionata il primo febbraio la cessione da parte di CPL Concordia alla Multi Utility Toscana Extra SPA del 100% di Copgas, società di vendita gas e energia elettrica del gruppo CPL con 50.000 clienti. CPL poi prende atto positivamente della decisione di Estra di acquisire i 19 dipendenti attuali di Copgas oltre alla struttura commerciale caratterizzata da una rete di uffici clienti in Emilia, Romagna, Campania, Calabria ed anche la Sicilia.